bene siamo il 21 di settembre di venerdì siamo verso le 15 ci troviamo nella parte media della sila siamo venuti in questa zona specificatamente per cercare un tipo di funco appunto la ramaria o meglio chiamata da noi galluzzi questi sono i galluzzi vedete sono assolutamente integri sani scuovano raccolti veramente in fase praticamente iniziale altrimenti si tendono a rovinarsi in maniera veloce quindi bisogna avere un po di fortuna qua vedete se giriamo ne abbiamo un bel po da raccogliere basta allargarsi un po vedete quando ci sono 12 ancora la 3 se facciamo un giro largo troveremo almeno 10 kg in questa zona di questa qualità vedete che polpone bello sodo per fare i bocacci di con gusto e compassione diamo sempre prodotti di alto livello come vedete per un cliente sempre che deve stare sempre contento non amiamo che cliente sia assolutamente soddisfatto guadagnando sempre il massimo ecco